E' lei che ci illustrerà un pochino tutto, faremo sto giro veloce in modo che poi verrà ripreso, ma non faremo la vera e propria in aula. Quando sarà finita la palestra, perché oggi ancora non è agibile, ma quello che interessava a noi era consegnare alla scuola perché la cittadinanza potesse già da subito usare le vede della struttura. Lo sapete già perché avete già scritto a suo tempo, è CPOS associativa a Paese e Gantini, mentre la parte ingegneria costi e sicurezza è stata seguita da Favaro e Milan, società di ingegneria. L'ingegner Milan è direttore lavori della scuola. L'ingegner Vittorio invece ha seguito tutta la parte di sostenibilità ambientale. La scuola è di 15 classi, quindi 3 sezioni per 375 bambini, per una superficie totale di 4102 metri quadrati e un costo complessivo che si aggira sui 4 milioni di euro. Quello che ci interessa e che è una cosa speciale, diciamo assolutamente speciale di questa scuola, è che la prima scuola, credo, in Veneto, ha davvero come classe energetica là più. Quindi consuma pochissimo, consuma meno di 4 kilowatt ore a metro quadro annue e credo che questo sia un grande successo per tutti quanti, per la popolazione, per l'amministrazione e sicuramente per noi progettisti. Anche per l'ambiente. Per l'ambiente, infatti, la scuola ha vinto il premio del Ministero dell'Ambiente Sfide 2009, è uno dei tre edifici in Italia che ha vinto questo premio. E' anche dotata di un building automation system, cioè di un sistema automatizzato che controlla tutta la parte tecnologica dell'edificio, cioè l'accensione e spegnimento delle luci interne, la luce notturna delle classi al piano terra, l'apertura e la chiusura delle tende da sole esterne che poi vedremo nella zona del portico, che sono state messe all'esterno perché quindi lasciano l'apporto naturale del sole, del calore, ma schermano dalla luce, diciamo, l'avviso acustico per la chiamata dei videlli, l'apertura e chiusura di porte e finestre, le zone di luce, di illuminazione esterna e la climatizzazione negli ambienti e nelle varie classi. In questo faccio una piccola sottolineatura, ogni classe è dotata di un sistema di areazione naturale, indipendentemente dall'apertura delle finestre. Quest'aria viene preriscaldata, e questo permette quindi anche di risparmiare, preriscaldata d'inverno e prerafrescata d'estate e tramite un sistema di canalizzazioni poi, una volta usata, esce, poi li vedremo in copertura, attraverso dei camini che praticamente garantiscono sempre che le aule siano areate naturalmente e quindi che l'aria primaria sia sempre presente nelle aule. Questo ovviamente è un vantaggio dal punto di vista energetico perché durante l'inverno non è necessario aprire le finestre, anche se questa cosa è possibile, per areare l'interno delle classi. La scuola è dotata poi di spazi specializzati che poi vedremo, che sono un'aula per l'arte, un'aula per l'informatica, un'aula per le lingue, una mensa e una palestra regolamentare che è praticamente usabile anche oltre l'orario scolastico. Questa è una cosa importantissima secondo noi, secondo l'amministrazione per un comune, perché permette di fare in modo che la scuola sia un luogo frequentato praticamente tutto il tempo e anche un luogo di incontro, cioè un catalizzatore sociale in qualche modo e quindi pensiamo che questa cosa sia assolutamente senza dover sporcare tutte le parti delle aule che invece quando finisce la scuola sono chiuse. Penso di aver dato un'informazione di carattere generale. Poi se guardiamo gli spazi, la scuola è costruita un po' come un vecchio chiostro attorno ad una corte, che è una stanza a cielo aperto, con un tappeto morbido dove i bambini possono fare anche ricreazione oppure possono fare delle lezioni speciali e questo argomento è tutto un lavoro che noi, in particolare lo studio di architettura, sta facendo da una decina di anni sullo spazio della scuola. Quindi è una scuola un po' pensata come i modelli nordici di sviluppo dello spazio. Grazie a tutti!